Va bene, è tutto per oggi, ci risentiamo domani, pure con Roby Russo in Siri Time. Il tema di domani lo vogliamo anticipare oppure no? No, perché sarà un'altra di quelle sorprese proprio tra capo e collo. Perfetto, io vi ringrazio, vi bacio, l'appuntamento è a domani. E noi abbiamo, abbiamo, abbiamo... Concluso. Un'amicizia speciale tra due persone può manifestarsi in modi diversi, o attraverso una frequentazione regolare e costante, o attraverso una connessione sottile e duratura. Francesco Carnevale è sempre stato per me una sorta di alter ego, una conoscenza voluta dal destino. La prima volta che ci siamo incontrati, a Cerignola, avevamo meno di vent'anni. Lui presentava a Radio TRC un programma dedicato alla musica dark rock e destinato ad un pubblico di intenditori. Io invece leggevo le notizie nel telegiornale serale trasmesso sul canale televisivo della stessa emittente privata. Qualche anno dopo, verso la fine degli anni Ottanta, ritrovai Francesco nelle vesti di batterista della rock band Art Decade. Durante i concerti dal vivo, Francesco non si risparmiava e suonava con un'energia prorompente. Forse siamo solo scherzi di luce, come ha detto lo scultore Medardo Rosso, ma il cinema prova che, prima di svanire, siamo stati reali. Grazie alla magia del cinema, caro Francesco, potrò ancora vederti e ascoltare la tua voce, come quando, di tanto in tanto, ci vedevamo e ci raccontavamo le novità delle nostre vite. Le sequenze che seguono sono dedicate al Francesco Carnevale artista radiofonico e musicale. È in quelle vesti che l'ho conosciuto e che posso raccontarlo. Chi invece lo ha incontrato nel ruolo di avvocato ne avrà certamente apprezzato la precisione, il garbo e la squisita ironia con la quale sapeva alleggerire i momenti di tensione. Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso. Ciao, Francesco. Tu come mai hai scelto di suonare la batteria all'epoca? Io ho deciso di suonare la batteria e non è stata casuale la cosa. Diciamo che il primo approccio l'ho avuto in età molto tenera, perché abitualmente, dai racconti anche fatti soprattutto da mia madre, ero facile portare il ritmo su un tavolo, su qualsiasi cosa. Quindi avevo, come dire, un'attitudine, ecco, un'attitudine verso lo strumento che l'ho manifestata poi successivamente avvicinandomi alla musica, ecco. Benissimo. E quindi si è formato questo gruppo? Non si è formato subito. Era in pratica, come dire, nata questa amicizia, ecco, scolastica per essere precisi, perché io, Daniele e Valerio eravamo amici di classe, parliamo di scuole superiori chiaramente, scuole medie, scusami, e da lì poi il pomeriggio, la sera, quando si finiva di studiare, si condivideva, che cosa, l'ascolto di Vischi, quale Beatles, quale Pino Daniele, e successivamente questi ascolti poi si sono trasportati in un sogno che condividevamo tutti e tre, che era il famoso sogno nel cassetto, iniziare a suonare, quindi iniziare a suonare veramente, a fare della musica. Provare, insomma, anche voi l'emozione di esibirvi su un palco, di avere degli ammiratori? Non proprio quella di essere protagonisti, non era quella la nostra ambizione. La nostra è una cultura che è cresciuta, come dire, molto spontaneamente, come l'erba, ma che evidentemente, io dico per me, geneticamente si è trasportata perché nella mia famiglia ci sono persone che continuano ancora oggi a fare musica. Parlo dello zio di mia madre che al San Carlo di Napoli è stato maestro, maestro Canfora, non volevamo sentirci protagonisti, volevamo veramente suonare gli strumenti, creare qualcosa, quindi alla base una cultura musicale che si formava via via, strada facendo, e trasportarla poi nelle nostre creazioni, le nostre figliazioni che poi sono state trasportate su nastri, su dei prodotti che negli anni Ottanta non erano in pratica un CD o cose del genere. Cronologicamente il gruppo ha avuto questa evoluzione, gli Art Decade da una canzone di David Bowie. Il nucleo iniziale era formato da Daniele Russo, pianoforte e basso, Valerio Stia alla Voce e Francesco Carnevale appunto alla batteria. L'evoluzione si è avuta con l'aggiunta di Cesare strafile alla chitarra e successivamente di Luigi Lattanzio alle tastiere. Questo è stato il nucleo operativo dall'84-85 fino al 90. Nel 1990 entra a far parte della nuova formazione Michele Roconte. Stiamo parlando di un periodo storico musicale dove c'è un'evoluzione. Si parla di un periodo che eredita il punk, quindi il post-punk, la new wave, la nuova ondata musicale che proveniva appunto dalla Gran Bretagna e si iniziò con delle cover dei Cure, dei Calt, dei Bahaus, di tutti questi gruppi che seguivano questo movimento, questa nuova ondata musicale del nuovo rock britannico. E quindi questa evoluzione, questo è stato il punto di partenza e da qui poi nasce una caratterizzazione, se vogliamo, della band che si evolve subendo delle diverse influenze musicali, dal classico al rock, al blues, al jazz, al melodico. Michele, nell'ambito del gruppo, sin dall'inizio, è stato un input di rinnovamento e quindi di ricerca, di evoluzione del gruppo. Sicuramente l'ha fatto con Aria, con una canzone che noi tutti abbiamo condiviso, che è nata da un giro musicale molto semplice all'inizio, da arrangiamenti seguiti dalla band, laddove proprio io personalmente, insieme a lui, insieme abbiamo lavorato molto alla, non alla stesura, alla battitura delle note musicali, ma molto sugli arrangiamenti. sugli arrangiamenti si è lavorato molto, per usare un termine più popolare, sullo scheletro della canzone. Chiaramente le note erano di Michele, però, ecco, per fare un paragone molto spicciolo, è come se tu hai le fondamenta e poi realizzi un palazzo bellissimo, che è una canzone stupenda. lo rimane molto attuale, ancora oggi sono contento del lavoro che abbiamo fatto all'epoca, lavoro dove ci sono state anche molte discussioni con Michele, ma sicuramente molto costruttive. dimmi perché non c'è questa dimmi perché ci riportano la primavera, che differenza c'è fra un grande mondo, se qualcuno è già sbagliato perché chi ama da lontano è solo aria, la vita è aria e chi produce arte non può stare in società, ci vuole un occhio che contenga tutta la realtà, perché noi non sappiamo dove inizia il vento, se il calore della luce ad occhi chiusi io lo sento, è solo aria, la vita è aria che va e non ritorna qui e non ritorna più e non ritorna mai aria per noi possiamo armare anche questo armarci contro di noi gridare subito adesso comunicare più un quadro di me per noi per loro per noi Oh, oh! E in una stanza si scatena la bufera Che un corpo è vivo quando ha combattuto una luta intera L'aria è come noi, è solo aria La vita è aria che va, è solo aria Che va È solo aria 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 Aria